pre partita a zibido rosatese oggi giornata un po particolare per noi c'è il maledetto buongiorno buongiorno a tutti una splendida giornata oggi zibido rosatese nel nostro bellissimo campo e niente dobbiamo presentarvi la partita oggi è una giornata un po particolare per la società purtroppo è venuto a mancare una pressione importante la sfera zibido e vogliamo dedicare la vittoria e difendere il primato per lui c'è qui con noi andrea siera sieragusa che è una storia importante a zibido ci ammetteremo tutto oggi per vincere per lui che ha passato tanti anni qui a zibido e purtroppo è venuto a mancare in queste ultime ore quindi vinceremo anche per lui ci metteremo il cuore soprattutto partita come si presenta la partita st'oggi una bella giornata sembriamo abbastanza freschi partita abbastanza difficile sugli spalti ci sarà casino a rosatese ha cinque punti meno di noi però sappiamo che è sempre stato un avversario un po ostico prognoso e niente capitano ci stava chiamando se quindi andiamo presubbibilmente anzi sta dicendo di andare gli spogliatoi e porta zibido sempre ci vediamo dopo ciao